Appuntamento culturale il prossimo 4 gennaio a Sapri, dove presso il Cineteatro Ferrari, la BCC del Cilento, di Sassano e del Vallo di Diano e della Lucania, tramite la Fondazione Grande Lucania, offrirà gratuitamente un concerto lirico di Natale. Un percorso godibilissimo che dalla lirica e dalle più belle romanze melodrammatiche condurrà fino al repertorio napoletano e alle canzoni di Natale, con musicisti di valore, il soprano Maria Teresa Polese, il tenore Davide Battimiello e il basso Antonio Mazza, accompagnati al pianoforte dal maestro Nicola Olese. Uno spettacolo che la BCC del Cilento ha voluto regalare, dopo quello della traviata Sala Consilina, ad un'altra realtà importante per l'istituto bancario come quella di Sapri. La nostra banca, attraverso la Fondazione Grande Lucania, fa anche cultura a 360 gradi, ha detto il presidente della Fondazione, Franco Castiello. Abbiamo voluto questo appuntamento perché riteniamo che sia educativo avvicinare la lirica alle masse e soprattutto ai giovani. È importante acculturarli e socializzarli ai valori della lirica. Continuiamo così, certamente con umiltà, la grande lezione di Luciano Pavarotti, nella speranza che si acquisisca una maggiore consapevolezza di quella che è la nostra identità culturale nazionale conosciuta in tutto il mondo. Poiché è uno spettacolo che abbiamo voluto donare alla cittadinanza con ingresso libero a continuato Castiello, invitiamo tutti a partecipare. In chiusura, brinderemo insieme al nuovo anno. L'appuntamento con il concerto al Ferrari di Sapri è per giovedì alle 20.30.